ciao a tutte e a tutti eccomi di nuovo a voi oggi è 31 luglio è finito il mese io manco veramente da tanti giorni e vabbè cominciavo a sentire un po la mancanza e eccomi di nuovo luglio per me è stato un mese terrificante da cancellare però purtroppo nei pensieri non si può quindi cerco di fare del mio meglio veramente probabilmente più terrificante il periodo più terrificante della mia vita ma va bene passa anche questo e vediamo vediamo come come fare comunque eccomi eccomi a voi eccomi di nuovo a voi benvenuti e benvenute alle persone che per la prima volta approcciano il mio canale io mi chiamo antonella marinelli e questa è la mia casa virtuale in cui vi parlo un po di tutto della mia vita del mio lavoro dei miei pensieri in generale chiacchierando così bentornate e bentornati alle persone che mi seguono già da un po vi ringrazio sempre per i vostri pensieri per i vostri commenti per i vostri cuori insomma mi fa molto piacere questo e voi lo sapete dunque di cosa voglio parlarvi in realtà non è che ho fatto granché diciamo tra una cosa e un'altra di lavori non è che ho fatto veramente granché però sono stata diciamo che ho fatto un po di attività con dei gruppi scout che sono venuti a casa sapete durante campi estivi quando vogliono fare qualcosa con le mani mi contattano e quindi ho avuto due squadriglie di un reparto del di un gruppo dell'aquila e un gruppo di di lupetti che stavano facendo il campo estivo qui vicino sono venuti qualche giorno fa inoltre sono stata ho fatto anche delle attività in una scuola estiva a ovindoli un paese bellissimo vicino vicino diciamo vicino nell'alto piano delle rocche a una trentina di chilometri più o meno qui da casa e grazie a Sara del bed and breakfast la ginestra di ovindoli lei è stata così carina mi ha contattato siccome sta gestendo una una scuola estiva per i bambini e anche per insomma i turisti i piccoli turisti che stanno lì a ovindoli e sono andata a fare delle attività filose naturalmente mi sono divertita molto e quindi questo e poi ho fatto dei weekend a castrovalva che è un paese bellissimo che sta sul cucuzzolo di una montagna alle porte del parco nazionale d'abruzzo lazio molise lungo diciamo le golle del sagittario per la strada che sale a scanno non so chi chi è di queste parti forse questi nomi saranno familiari chi no cercateli perché naturalmente parco nazionale d'abruzzo quindi insomma basta che lo googolate trovate questi posti a castrovalva perché perché c'è un rifugio che si chiama ozium casa degli escursionisti è un rifugio gestito da vanessa ponziani una mia carissima amica e la quale anche lei insomma mi coinvolge facendo mi coinvolge appunto io vado lì mediamente fine settimana per fare i corsi sia con gli ospiti del suo rifugio e sia con le persone così che vogliono partecipare quindi diciamo queste sono state un po le mie attività girovaghe per insomma girovaghe per l'appunto non mi viene un'altra parola in questo periodo avevo anche degli eventi che avevo organizzato io tra cui il networking di cui vi avevo parlato in un video e l'ultimo che avevo organizzato e che ha ancora altre date è il cucine cucito cioè cucinare i biscotti della tresca e nel frattempo che si cuocevano i biscotti fare il sacchetto porta biscotti cucire il sacchetto porta biscotti ma di questo vi ho parlato nel video precedente quindi se avete voglia scrollate tra i video e insomma ve ne ho già parlato è inutile che vi tedio ulteriormente e niente poi proprio di attività diciamo manuali sto finendo mi mancano mi manca poco mi mancano un po di giri per finire e le maniche che devo decidere ancora come farle di questa maglia è un top down aspettate che trovo un attimo ecco questa qui è questa qui l'ho iniziata diciamo con un'apertura diciamo a polo con questo colletto che io ho iniziato con la maglia rasata poi ho fatto un giro di maglia legaccio e l'ho chiuso doppio in pratica l'ho chiuso doppio e poi ho continuato con giri di andata e ritorno ho diviso le maglie tra le spalle il davanti e il dietro e ho fatto diciamo un po di giri ecco con solo questi sono tre giri maglia rasata e un giro maglia rovescio o meglio fino all'apertura era il punto legaccio perché sono giri di andata e ritorno poi ho cominciato in tondo e quindi e poi ho continuato e diciamo qui per dare ancora l'effetto marino ci ho fatto dei movimenti dei rombi con il punto rovescio e adesso sto facendo sto terminando ho ripreso per un po il motivo dell'inizio e poi qui sto facendo un giro dritto un giro rovescio un giro dritto un giro rovescio così mi vengono dei rotolini diciamo dopodiché chiudo e poi secondo il filo che mi avanza riprendo le maniche il filo che ho utilizzato è questo di land you nord summer temptation è un 100% cotone 100% cotone e sono 120 grammi 340 metri questa è l'etichetta se si mette a fuoco e niente mi era piaciuto questa sfumatura che è un un azzurro verde petrolio insomma una cosa così sfumata tra l'altro un lato del gomitolo mi dava proprio così questa riga bianca me lo dava proprio il gomitolo che non ha più ripetuto quando ho cambiato gomitolo non ho appositamente non ho ricominciato dal lato scuro perché mi piaceva proprio questa gradazione che che si rischiarisce e mi dà proprio l'idea del mare qui mano mano magari con le nuvole no con il tempo un po grigio così e poi si rischiarisce di nuovo questa cosa mi è piaciuta e quindi insomma mi ci sto un po divertendo quindi questo è il top down proprio di lavoro poi invece ho fatto una spesa che adesso vi farò vedere allora io seguo sia su facebook e su instagram una signora che vende l'ane d'irlanda su facebook si chiama c'era una volta l'ana d'irlanda e invece su instagram il fili di penelope mi sembra poi comunque ve lo metto nell'info box giù questa signora vende l'ane shetland per l'appunto o l'ane d'irlanda in genere e ha dei colori dei filati veramente belli quando l'ho diciamo ho visto un post quel giorno stavo un po di lena e comunque sono stata attratta proprio dal colore ho preso questi questi queste rocche diciamo che non so se riuscite a vederlo è un colore come ha scritto lei rosa lillato non so è un colore particolarissimo e ne sono stata proprio attratta questi sono mi sembra allora sono 265 grammi si sono 265 grammi ed è la composizione è 55 per cento l'ems wool e 45 per cento cotone biologico sono 100 grammi e 700 metri sì vedete cioè è proprio bello vi faccio vedere il filato come è è così sottile ma è veramente di un morbido e poi questo colore proprio mi è piaciuto questa è la sua etichettina questa è la composizione e insomma ho voluto fare questa spesa io ah e poi c'era anche era incartato e c'era il il marker ecco non mi veniva la parola scusate oggi sono un po così i love knitting non so se si legge e comunque questo è stato proprio carino è stato proprio bello era incartato con questa carta e questo era l'involucro l'involucro lei si chiama Rebecca Laugelli Rebecca Laugelli cercatela perché non so se già la seguite ma veramente ha dei filati incredibili e non escludo che magari qualche altro acquisto glielo farò perché veramente veramente meritano ancora non so esattamente che cosa farci con con questo filato ma qualche cosa mi verrà in mente probabilmente ci farò una maglia ci farò una maglia con le drop shoulder non so sempre un top down insomma magari un po' lace vediamo perché il filato proprio si presta e non mi va di metterlo doppio lo voglio lavorare proprio così sottile com'è e vediamo questa è la sua il suo bigliettino da visita quindi c'era una volta la lana d'irlanda questo è il retro se si legge fa un po' riflesso però ecco questo è diciamo questo è quello che ho fatto questo periodo ho qui ancora l'agenda perché adesso mi stavo stavo un attimo vedendo insomma di organizzarmi un autunno inverno quindi appena riesco un attimo appena mi si snebbieranno un po' i pensieri mi organizzerò settembre ottobre sebbene anche a settembre ho qualche weekend per esempio l'otto di settembre sto a pesca seroli che è proprio il centro del parco nazionale di abruzzo la zia molise e con tiziano testa che è una guida faremo un'escursione guidata in cui io racconterò un po' diciamo le vie della lana quindi racconterò un po' storie di pastori storie di lane storie di tinture storie se vi capita che magari state in vacanza da quelle zone cercatelo sempre anche su facebook tiziano testa e lui lì metterà mette tutti i programmi delle sue escursioni è molto bravo perché tra l'altro fa escursioni particolari non sono solo camminate ma sono camminate raccontate quindi a parte questa dove sto io ci sono anche teatro natura e comunque ogni sua camminata ha altre competenze oltre la sua che è una guida vale sempre la pena perché in questa maniera si scopre meglio il territorio sicuramente quindi quindi ecco io l'otto di agosto starò a pescasseroli e poi starò di nuovo a castrovalva il 14 e il 15 settembre e faremo delle cooking class dolci sui dolci tipici abruzzesi a cominciare dalle fratelle e poi mano mano insomma adesso mi sto facendo anche altri ah poi così ve lo metto a spot una specie di ve lo anticipo ma dobbiamo ancora abbiamo solo deciso le date io e Sara di Ovindoli la persona che vi dicevo prima della Bed and Breakfast alla Ginestra il 18, 19 e 20 ottobre vorremmo fare abbiamo messo in programma un retreat su sempre passeggiate gli ad Ovindoli ci sono dei posti bellissimi per fare immersione nella natura e vorremmo fare proprio un retreat di meditazione yoga e knitting ovviamente quindi questo il 18, 19 e 20 ottobre continuate a seguirmi perché appena lo organizzeremo meglio vi darò tutte le informazioni inerenti a novembre così vi do a spot vi do queste cose così non si sa mai magari ci volete organizzare qualcosa il 1 novembre 1 2 e 3 novembre a castrovalva da Ozzium casa degli escursionisti con Vanessa abbiamo organizzato un altro retreat però questa volta invece del knitting il tombolo il tombolo con i fili di lana naturalmente sottili vediamo anche chi non ha mai lavorato il tombolo è veramente una cosa un approccio all'arte del tombolo quindi si partirà proprio dal punto tela insomma e faremo dei braccialetti o dei segnalibro all'occorrenza vedremo comunque sono tre giorni 1 2 e 3 novembre lo dobbiamo ancora organizzare diciamo bene però le date sono fissate e quindi anche qui continuate a seguirmi perché appena lo appena lo definiamo metteremo metteremo i programmi metteremo il programma quindi ecco questo diciamo un po di anticipazioni ve lo date per cui se vi da qui a quest'autunno al prossimo autunno se volete organizzarvi dei weekend o delle giornate in tutto relax avete le date anche se anche se magari volete venire un giorno così perché state liberi eccetera e magari ci vogliamo conoscere di persona basta che mi mandate un messaggio e perché no possiamo concordare un posto in cui incontrarci e prendere un caffè mi farà sicuramente piacere bene adesso vi lascio e grazie per avermi seguito fin qui che dire buone cose e buona giornata in qualunque momento della giornata mi stiate seguendo e sempre 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 buona creatività e buon filo a tutte e tutti grazie 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 grazie